Salvatrice, traditori, rilevata. Torretta, salvatrice, nemica, rilevata. Torretta, cecchino, traditori, rilevata. Torretta, cecchino, nemica, rilevata. Drone, aggressore, traditori, rilevato. Drone, aggressore, nemico, rilevato. A un agente serve aiuto. A un agente serve aiuto. A un agente serve aiuto. Sistema sospeso. Sistema sospeso. Sistema riattivato. Agente a terra. Grave trauma rilevato. Arrediti. Arredditi! 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 Agente traditore eliminato